Il Carnevale dei Ragazzi, in una splendida montagnana baciata dal sole, ha portato in piazza centinaia di persone domenica 3 marzo 2013. I carri della 32esima edizione hanno sfilato per tutto il centro storico, dove erano decine le piccole mascherine pronte colorate battaglie. Anche gli adulti non sono stati da meno, divertendosi con i loro bambini, oppure inscenando battaglie su andicoriandoli. Per tutto il pomeriggio, i carri hanno percorso le strade della città murata, accompagnati dall'animazione, dal piccolo Luna Park e dalle bancarelle di dolciumi per i più golosi. Il Carnevale 2013 chiude così la serie di eventi invernali della città murata. Nelle prossime settimane, il centro di Montagnana comincerà a colorarsi delle tinte della primavera, nell'attesa dei grandi eventi dell'estate. Nelle prossime settimane, il centro di Montagnana comincerà a colorarsi della città murata.